A Piacenza ad Adige, nello scontro tra un furgone e un trattore, un uomo ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto alle 9 in via Abadia, lungo la strada provinciale 91. Sul posto sono arrivati i pompieri provenienti da Estero Vigo con l'autogru. Hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo di 75 anni che si trovava alla guida del furgone. In l'esola agricoltore ha la guida del trattore. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.